buongiorno appassionati di calcio e soprattutto appassionati di juventus questa è la nuova rubrica che avevo promesso che avrei lanciato dopo la termine del campionato che si chiama appunto calcio mercato news come vedete scritto alle mie spalle e che cercherà di darvi conto di tutti i movimenti di mercato che ci sono anche rumor anche insomma a bozzi insomma tutte cose che vi terranno in compagnia se vi farà piacere tutta l'estate fino addirittura l'inizio del campionato perché quando terminerà il mercato appunto smetterò non ci sarà tutti i giorni ma ci sarà soltanto quando ci saranno notizie interessanti almeno tre quattro volte alla settimana comunque dovreste trovare calcio mercato news alternato ad altri format canonici come il punto e altre cose giusto per fare una specie di recap e il recap in tutti tutti gli effetti è quello che sto per fare adesso in questa prima puntata di calcio mercato news e sì perché ci sono tante cose di cui parlare tanta carne al fuoco mi scuso mi sarà un po lungo ma ci sono veramente molte cose da riferire per esempio intanto per ricominciare finalmente ci siamo levati l'ingaggio di sandro che era onerosissimo e che in qualche maniera è andata a pesare sul bilancio perché quest'anno di fatto non ha quasi mai giocato quando ha giocato ha fatto dei danni a parte l'ultima partita e quindi è stato veramente un sacrilegio rinnovarglielo comunque non c'è più adesso il portiere è stato diciamo in qualche maniera scelto che è di gregorio questa è una notizia che do quasi ufficiale non è ancora fatta la firma comunque solo questione di piccoli dettagli da sistemare 18 milioni più bonus è la cifra per cui appunto viene gestita la situazione il problema a questo punto qual è noi abbiamo tre portieri a parte pincioglio che rimarrà storicamente il terzo portiere ovvero abbiamo per in e shesni shesni ha un ingaggio molto alto 7 milioni e che non vuole spalmarsi la juventus gli ha già detto che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto a quelle cifre gli ha proposto di spalmarlo in 4 milioni per due o tre anni lui ha rifiutato per cui shesni se rimarrà la juventus questo sarà l'ultimo anno che farà la juventus ma l'acquisto di di gregorio lascia intendere che probabilmente la juventus farà gioco duro sul giocatore e metterà il titolare di gregorio e shesni probabilmente lo metterà in panchina quindi se dovesse arrivare un'offerta come la juve si auspica per shesni il portiere titolare sarà e aggiungo una nota personale finalmente mattia per in che per me è più completo rispetto a shesni due ottimi portieri ma per me per in più completo di shesni per cui o shesni o per in nel caso che shesni invece non si riesca a cedere dovranno andarsene perché di gregorio di fatto diventerà il titolare del futuro della juventus e i portieri sono fatti poi ci sono due nodi molto molto importanti da sciogliere prima di pensare gli acquisti gli arrivi di cui parleremo tutti i giorni o spesso in questa rubrica e sono esattamente il nodo rabbio e il nodo chiesa rabbio non ha avuto offerte perché anche se lo spacciano per un grande centrocampista rabbio è un buon centrocampista non è un fuoriclasse non è un giocatore che ti cambia le partite un giocatore che sei in giornata te la fa vincere ma spesso e volentieri un giocatore che dà una mano non è diciamo il debruin della situazione il piero della situazione il davis o il tardelli o il paolo sorsa della situazione per parlare dei giocatori soprattutto che hanno giocato nella juve per cui quando si parla di drabbio si parla di un giocatore al quale la juventus proporrà un abbassamento non eccessivo dell'ingaggio da 5 6 milioni per un biennale o triennale perché il ragazzo è ancora giovane quindi insomma arriverà a 31 32 anni col contratto finale della juventus se arriveranno offerte da altre squadre la juventus non operò nessuna resistenza per la cessione se invece non dovessero arrivare proposte lui dovrà accettare questa appunto scusate gioco di parole proposta della juventus altrimenti si andrà allo scontro che la juve vuole evitare a tutti i costi è ovvio che se dovesse partire anche la bio non ci sarà soltanto la caccia a cockmaners ma probabilmente si cercherà di portare anche sarmagis che dopo aver dato una mano a salvare l'udinese ovviamente vuole provare un'avventura in una squadra di grande livello di grande rango anche perché le pende dell'inferma che ha partito in questa stagione per salvare l'udinese e sa soltanto lui e chi ha giocato con lui l'altro nodo che è il più importante perché se esce lui c'è la possibilità che arrivi un giocatore similare dal bologna è federico chiesa federico chiesa ha chiesto l'aumento dell'ingaggio la juventus gli ha risposto picche non se ne parla neanche di dati di aumento dell'ingaggio il contratto scade a giugno 2025 quindi li ha ancora un anno di contratto la juventus vuole evitare a tutti i costi di perderlo a parametro zero cioè a perdono insomma per intenderci per cui o chiesa rinnova alle condizioni della juventus oppure chiesa viene sbattuto proprio uso questo termine forte violento viene sbattuto sul mercato per il miglior offerente ovvio che chiesa che è un giocatore che non è ancora stato completamente ammortizzato perché bilancio va intorno ai 16 17 milioni non lo puoi vendere a meno di 40 40 50 perché se arrivano offerte inferiori ovviamente la juventus lo tiene e a suo rischio e pericolo perché poi sappiamo come va a finire con i giocatori che non vogliono rinnovare e che fanno fronte duro muro contro la società insomma questa è una situazione molto spinosa come vedete giuntoli prima di muoversi per gli acquisti anche se va detto che per di gregorio e calafiori siamo molto avanti di gregorio oserei dire che quasi fatta calafiori a buon punto per muoversi negli altri giocatori che la juventus è interessata di cui si parla no l'altro turam che dovrebbe essere in orbita juve cop meinas in orbita juve e addirittura sar mesi se va via rabbio quindi ne prenderemo due non un e basta insomma c'è un bel gioco poi ovviamente c'è tutto questo il filone più interessante quello che secondo me dovrebbe farci pensare riflettere ma qui dovrà intervenire allenatore qui dovrà intervenire se sarà lui tiago motta perché sarà lui a pronunciarsi su sulle su barone cea su caio george su questi giocatori che sono stati mandati in giro nella provincia e che in qualche maniera la juventus dovrà decidere se monetizzare ovvero cederli per fare fare tesoretto oppure mettere in prima squadra per quello che sono venuto a conoscenza io a tiago motta piace molto soul e mentre invece sacrificerebbe senza nessun problema healing e barone cea e caio george anche se barone cea gli piace però onestamente ripartire dal centro campo che ha avuto problemi in tutti questi anni con un ragazzino che ha poca esperienza che ha giocato soltanto un anno nel frusinone e non sempre titolare che chiaramente è un azzardo a mio modo di vedere questa è un'opinione personale ci mancherebbe altro per cui staremo a vedere i movimenti della juve sicuramente c'è molta carne al fuoco e sicuramente da quello che mi risulta la juventus farà una praticamente una rivoluzione almeno sei o sette giocatori se ne andranno e almeno sei o sette giocatori arriveranno attenzione che c'è anche il discorso Danilo perché Danilo va in scadenza di contratto Danilo ha fatto una stagione pessima Danilo ha un ingaggio piuttosto alto potrebbe essere un altro giocatore sacrificabile il problema qual è che Danilo non ha mercato Danilo è un giocatore che non avrà richiesta perché ormai con gli anni è avanti e quindi non è che uno si va a prendere un Danilo pagandogli 4 5 6 milioni di euro per cui Danilo probabilmente diventerà una chioccia se resterà la juve diventerà una chioccia per far crescere i giocatori che verranno a giocare nella juve un'ultima cosa che è una specie di breaking news ci sono voci che però io non confermo perché non ho non ho avuto nessun riferimento in merito se non il buon pedullà che di cui mi fido ciecamente che dicono che ci potrebbe essere la possibilità anche se secondo me molto remota che di Lorenzo che è in rotta di collisione con il Napoli possa essere in orbita juve oltre che in orbita inter io credo che di Lorenzo difficilmente arriverà alla juventus per un motivo molto semplice è vero che la juventus ha penute di terzini è vero che la juventus sta cercando dei prospetti che vadano bene però è anche vero che la juventus ha cambiaso è anche vero che la juventus ha UEA che sicuramente verrà tenuto e poi insomma bisognava vedere come gioca Diego Motta perché quando giochi a quattro tu volendo avendo Calafiori avendo Gatti avendo Rugani avendo Bremer che pare non venga sacrificato questa è una bella notizia che vi voglio dare insomma puoi anche evitare di giocare col terzino canonico anche se onestamente 18 milioni per di Lorenzo non sono pochissimi considerando che ha già 30 anni per cui insomma staremo a vedere staremo a vedere i movimenti una cosa è certa le priorità sono Scesni resta o va Rabiot e Chiesa restano o vanno questi sono i tre nodi fondamentali principali su cui Giuntoli sta già lavorando ed è il motivo per cui non abbiamo ancora avuto l'annuncio ufficiale di Tiago Motta alla Juve perché qui non c'entra Tiago Motta qui una situazione che ci fosse Tiago Motta ci fosse stato Allegri ci fosse stato Pinco Pallino sarebbe stata da risolvere lo stesso perché sono tre giocatori che per motivi di ingaggio tutti e tre per motivi di ingaggio e per motivi di scadenza del contratto devono essere sistemati o alla Juve o altrove questo è quanto io vi auguro una buona giornata spero che vi sia piaciuto questo format vi ripeto se ci sono notizie interessanti io sono praticamente full immersion sul mercato adesso in attesa degli europei che seguirò non tutti perché come sapete avrò una vacanza fuori dall'Italia per cui non potrò da dove sarò seguirla però insomma fino a che sarò in Italia potrò seguirla vi auguro una buona giornata e ci vediamo sempre come sempre sul canale già domani mattina con Good Morning Juventus e se ci sono notizie interessanti anche con Calcio Mercato News altrimenti con altri contenuti ciao a tutti